Salve ragazzi e cari amici del web sono Andrea Bruno, il mio viaggio in moto in Malesia continua come potete vedere non sono in moto, la mia moto è qua oggi è successo un po' di tutto, io sono su un cassone di un pick up e ti faccio vedere un po' che sono io oggi è successo veramente di tutto, ho spaccato la moto, ho buttato il treno, ho sostituito alcuni managgi poi ho ripreso il viaggio e ho anche buccato per fortuna ho incontrato questi qui gentilissimi, mi hanno buttato nel cassonetto del loro pick up ho trovato, non sono Malesi, sono degli indonesi, i gentilissimi mi hanno dato un passaggio e mi portano nella prima città che è a 58 km e sono stato fortunatissimo perché è sera, sta calando il buio e non sarei mai come città di arrivare con la bomba piccata prima si è viajando e mi hanno dato un po' di tutto il treno al porto del campo e mi hanno dato una volta che mi hanno dato un po' di questa domanda è molto bello Grazie a tutti